Che comincia adesso con il servizio di Olegantorov Palla facile dal centro, tiene il punto Apertura per Petkovic Arriva il muro a tre, arriva la difesa di Fedrinzi Attenzione Tsukoski, tiene palla alta col Bageranto Olegantorov contro muro a due, il pallone che resta sul campo Yuasa L'attacco di Rohr in diagonale chiude il parziale Rick Rohr Sceglie il posto 4, l'attacco out Questo mini set da 15 punti si parte col servizio di Olegantorov Invece in difesa di Marchisio Col Bager ancora Antonov che sta distribuendo ai propri compagni Casciopa sul primo tocco direttamente Da secondo tocco la chiude Eric Grazie a tutti Grazie a tutti